Eugenio Taccini, vengo da Montelupo, faccio la ceramica finché tutto normale, soltanto che la faccio da tanti anni. La novità più importante della mostra dell'artigianato di quest'anno è il coraggio di aprirla ai divertimenti. Ai divertimento e ai gusto in maniera più marcata. L'artigianato è quel lavoro particolare che se bene interpretato porta all'arte, se male interpretato porta a un numero infinito di oggetti che facciamo e rimaniamo anonimi. Io questo non mi è mai piaciuto. Quando facevo il dipendente, ho fatto che pochissimi anni, mi contestavano sempre gli oggetti perché non riuscivo a farne un uguale. Facendo l'artigiano è stata la mia fortuna, perché ogni povero nessuno è uguale a quell'altro. E lì poi mi sono sempre più distinto, fino ad arrivare ad amare ed apprezzare in maniera ossessiva i piatti del Seicento di Montelupo, i famosi piatti ad Arlecchino. Questi cocci di Montelupo, come li sono ritrovati in mano io, quelli veri, scavando nell'orto della nonna a Montelupo, sul castello, che poi lì ci hanno fatto anche un grande scavo più importante e hanno trovato il famoso piatto che è lo stemma di Montelupo, il piatto della collezione Rothschild, con il rosso di Montelupo che è stato trovato in questo scavo, che io prima, tanti anni fa, avevo trovato piatto ad Arlecchino. Io mi sono innamorato di questi piatti perché sono fatti con una semplicità estrema, non sono baroccati e elaborati, però difficilissimi a copiare, addirittura incopiabili.